Sono 84.234 i nuovi casi di positività al Covid registrati nelle ultime 24 ore in tutta Italia, con 59 persone decedute. In Sicilia il dato relativo alle 9 province è di 7.684 nuovi casi, con 5 decessi. Nel territorio della provincia di Caltanissetta si registra un lievo aumento di positivi rispetto al giorno precedente, con 272 nuovi casi rispetto ai 238 del penultimo aggiornamento. Tutti i nuovi pazienti sono in isolamento domiciliare, 90 sono di Gela, 58 di Caltanissetta, 22 di Mussomeli, 20 di Niscemi, 15 di San Cataldo, 13 di Son Mattino, 12 di Vallelunga Pratameno, 7 di Butera, 6 di Mazzarino, 6 di Serra di Falco, 5 di Milena, 4 di Campofranco, 4 di Riesi, 3 di Delia, 2 di Sutera, 2 di Villalba, 1 di Marianopoli, 1 di Montedoro e 1 di Santa Caterina Villarmosa. In degenza ordinaria sono ricoverati un paziente di Caltanissetta, 2 di Gela, 1 di San Cataldo e 1 proveniente da fuori provincia, mentre sono stati dimessi 2 pazienti di Gela e 1 paziente di Butera. Sono invece 115 guariti dal Covid, 40 di Caltanissetta, 35 di Gela, 11 di San Cataldo, 6 di Niscemi, 5 di Mussomeli, 5 di Serra di Falco, 4 di Mazzarino, 3 di Santa Caterina Villarmosa, 2 di Milena, 1 di Montedoro, 1 di Riesi, 1 di Son Mattino e 1 di Sutera.